Episodio numero 13 di The Witcher, e sono sempre io, Dainji. Ah eh, ok. E continuiamo la nostra avventura a cercare di raggiungere il barone sanguinario, cioè il vecchio figo con la pipa. I'm too old to scurry. Besides, what could you do to me? Kill me? Go ahead. I've not longed to live. Tammioid? Wouldn't work. Mi skin's right brittle. Lived here long? Since I was born. Reckon that'll be more than 70 windows. Must know the area well. Not bad. Listen, I gotta get inside the fortress. Can I do that without going through the front gate? You can, but few know the way. If you were to make an humble offering, call it to this humble man, maybe I could point you in the right direction. Eh. Won't finagle any coin out of me. If there's another way in, I'll find it. Maybe you will. Maybe you won't. Mi vuole spilare 15 monete d'oro, aspetta. So, change your mo... Perché vuoi aiutare? Vabbè, da 15 monete d'oro non mi vuole. Just looking to make some coin, or is there another reason you're helping me? What you did at the crossroads, that's why they won't let you in, right? The innkeep? My sister's husband. Eh, he's the husband of my sister. Eh, so why do I have to help him? 15 monete d'oro. I don't really feel like arguing with the guards. Years back, when the old lord still ruled Crow's Perch, the blacksmith's boy went missing. Old village looked for him. No luck. Finally found the boy in the river. He drowned. Tragic. But how's that supposed to help me? A few days on, an old woman who served the lord found the boy's cat near the castle well. So, either he lost it there, or he fell in the well. Clever man. Village folk built a shrine where they found the lad's body, northwest of here. Wait till you find an entrance to a passage nearby. Shrine? Where is it exactly? Track that weaves through the village. Follow it to the bridge. Turn right past that. Then go on, straight as piss, until you get to a crossroads. Turn right again. Then follow that path up a hill. Shrine stands upon it. Right past the bridge. Then right again. I'll find it. Thanks. Come on, Roach. Go, Roach. Ho detto il ponte, no? Quindi... Ecco qua la roccia. La roccia che diceva a destra della roccia. Quindi... Qua la destra, più tutta destra qua. Oppa, a destra della roccia. Seguiamo il percorso. Poi dopo dovremo svoltare di nuovo a destra, se no. Ah, questa è la... Questa è l'altà. Allora, iniziamo a cercare indizi. Quindi se... Allora, dobbiamo assolutamente andare in acqua. In qualche parte del SC. Un bichetto. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Certiamoci che non ci sia nulla da raccogliere. Sfiedo un cazzo. Sinceramente non vedo nulla. Oh. Strega d'acqua. Aia. Ehi, là. Allora, le streghe d'acqua sono un po' razzarde. Ehi, dai, mettimi via sta cosa. Ecco, bisogna usare il segno Queen. Ehi, là, madonna. Da fuck, è mortale sta cosa. Il problema è che non vedo un cazzo il problema. Quello. Vabbè. No, cippa, non vedo. Ma che è sto posto? Meno male che il segno Yerden mi sta aiutando. Ah, è quella qua. Eh, il problema è che non vedo niente, eh. Ma... Il segno Yerden che rallenta, quindi in questo caso è stato buonissimo. Eh, bisogna giocare anche un po' strategicamente. Quindi... Le streghe d'acqua sono quelle schifose lì che lanciano le... Non so cosa lanciano, sinceramente. Scuti, buo. Catarro. Ma non ce ne frega niente e continuiamo con la nostra strada. Spada d'agenda di lupo migliorata. Buono, buono. Antigamente è lo schema della spada che la migliora. E' proprio quello che mi serviva. Ovviamente bisogna sempre guardarsi dove ci tuffiamo e tutto. Bisogna sempre guardarsi dietro. Per trovare delle piccole anche cose. Un attimo, devo salire di qua. E' abbandonato, però... Ci sono sempre un po' di cose qua, non so. Se è abbandonato, come cazzo fanno? Beh, è meglio per me. Io raccolgo i funghetti. Eccolo qua. E sbucchiamo dritti dritti dal pozzo del palazzo. O castello? Eia. Eccolo. 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 Sì. 흑 spy acorciato! Eccolo. 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 C'è uno sbaglio, eh... Diciamo che è una godura usarla Andiamo, beh, ma perchè cazzo sta raccogliendo l'herbe su Siribur? Non so, sono abituato ad raccogliere tutto qua Nei, bisogna help Che praticamente è capace di storcere il tempo, come vediamo È abbastanza forte, cazzo BAM Ehm... Devo dire che... È ricercata per questo, dalla caccia selvaggia Tu puoi calmarci Ciao, tuoi Sei perduta? Un pochino, credo Sei tu? Ehm... Vabbè... De, ecco... De, ecco... De, ecco... E anche un pochino D' questo significa che tu sai che modo da andare? Non so, non ancora Ma sicuramente.. Ma credo che troviamo il modo se troviamo insieme Cosa succedi a te? Questo? Non ciò che... Come si è arrivato qui? Il mio padre mi portò, mi portò di seguire il tralto di treats e freddo il mio fill. Il diceva che sarebbero aspettati. Quindi ho cominciato il tralto, poi ho visto una città, e ho scelto la città, e ho scelto il mio way. Il mio padre, perché ha te seguire il tralto di treats? Do you know? Perché abbiamo avuto un po' di fare l'arco con. Non capisci. Lei era freddo, ho scelto il jugo, ho scelto il mio milk. Il mio padre mi sono stato freddo. Il mio padre diceva che sarebbe spankato, ma il mio padre diceva che non faccia nulla. Non c'era di più, ho scelto i freddo di tutti i freddo di me. Il tralto di un tralto di treats, che sarebbe un problema. Tu e il mio padre, quando ti resta casa? questa mattina e l'olio ha calciato la tua faccia o la tua macchina? ha calciato la mia macchina quindi dovremmo andare a l'esterno veni, vadovi a te domani e ho raccontato a te i bambini che non devono perdere i bambini nei bambini non possiamo andare a casa perché del Volf King e della sua macchina non c'è un Volf tra i bambini questi hanno uno e hai visto? hai visto? sì, non da un bambino da un bambino era grande con grande eyes e grandi fang e era terribli, disgustibli, horifich vedi lo che ho ho sui? i bambini i bambini i bambini i bambini vieni i'll aiutarti i cittadini Vabbè sono talmente E purtroppo non è Non è utile quanto Geralt Con il potere degli Inni Vabbè quanti cazzo sono di lupo Capisco che è difficile ma Dai cazzo E basta attaccarmi da dietro Hanno un casino di vita Dai vabbè avete rotto il cazzo Oh non si fa toccare Quella merda Oh si fa toccare Potrei fare molto di più Però è esausta Aspetta dovrei seguirla La tizia Guarda C'è qualcosa La tizia La tizia probabilmente Piazzarono i la lunghe Non mi come un esperto C'è qualcosa Lo soppato E' un po' 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 Cosa è questo? Il marrow è missingo. Interessante. Vediamo. Il liver è morto. Cosa stai spettando il cuore? Cosa vuoi fare sicuramente che le lezioni sono tante? Il King del Wolf King non è una fantasia. Ma che è un vero. Il vero è vero. Il dogtallo, il wolfsbane, il porsiglio e il uomo del wolf. Il wolfking sentirà una terrible, terrible paura. Tu sei smart. C'è questo cosa? Te l'ai insegnato? Non il mio padre. Il mio padre. Il Vesemir. Ha fatto bene il Vesemir. Vecchietto ma ancora in gamba. Eh, altri lupi. Altri inquietanti, mi fanno un cazzo. Mi fanno un cazzo. Sì. 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 ma si raccolgo un po' di roba oh, perché non potrebbero? hanno abbastanza da cominciare dove finisce il passaggio c'è praticamente questa famiglia lanciano i bambini perché non hanno cibo da sfamarli allora piuttosto per di ucciderli li mandano a foresta e praticamente i bambini muoiono e loro sopravvivono così, il cibo rimane più a loro che i figli cioè, avete capito? ok, ho tutto ora for a spot where I can build a fire and brew the oil in peace what you doing? greasing my blade there we'll see just how effective uncle Vesemir's formulae are e non ho ancora capito se sinceramente lei è in grado di usare i vari segni mi pare che lei non può usare i segni tipo il fuoco, il rallentamento e altre roba non so perchè mi pare che il suo potere speciale è il tempo quindi è forte come potere però non può fare altro mi sa non so sicuro ma non so sicuro se è proprio un witcher questo vabbè dai andiamo vedremo più avanti perchè ormai la storia non me la ricordo più mai non so sicuro 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 ecco non so sicuro al potere del tempo, fa un cazzo fa un cazzo, re del upium, madonna Oh, Yaren, must be We was returning from Midcops when the brute attacked I managed to flee, but Yaren, the... The little one, no details You have bandages at home, some spirit He laid a claw or two on me, unfortunately I've not missed, but my lord, he's a powerful man He's sure to help you Might even reward you for cutting the werewolf down Very well, lead us to your lord Just how do you think you brought me, man? That's not my daughter And the little one? Neither, damn it I think I'd know my own child Well, might not be yours, the older one, but you've gots to admit the likeness That's downright striking So, any chance for that reward? You'll not see one fucking copper Get out before I set my hands on you So, Stu, any good? Very, thank you I'd not eaten in... Clear to see I'm pleased you like it Had them prepare a bath for you, once you've eaten And you could do with some sleep Great care in the nook behind the hearth You, in the guest room, opposite the kitchen Thank you I... Shh Eat now We'll speak once you've rested So I ordered my men to watch her And left her to rest And? Ah, a topic for another time The little girl who showed up here with Ciri What happened to her? Gretka She's safe and sound Helps out in the kitchen Ciri told me of the girl's parents What they decided So I decided not to send the lass home She's fed here A roof over a warm corner she calls her own She wants for nothing What happened to Ciri? I've told you already A topic for another time Hmm Take it you won't give me this information for free Sharp you are I regret your loss Commiserate But you see It so happens My wife and daughter are missing as well I propose An exchange Find my loved ones And I shall tell you About the girl you seek All I know Thing is Can I trust you? What guarantees do I have? Ha ha None whatsoever Only My word What if I refuse? Because I just don't want to Would you tell me to sod off? Go ahead But then I'll tell you the same And what will that make us? Two helpless empty-handed sods Think of it as searching for your own daughter Ought to go quickly then When do you see them last? They vanished after the new moon As if whisked away by shadows What do you mean vanished? Precisely that I awoke one morn to find them gone You try to search for them? Sent men out right away But they're not suited to it It's one thing to rip up floorboards In search of a peasant's last sack of grain Finding a living person They just don't know how Besides Velen's naught but swamps And marshy woodland Plenty of hard-to-find nooks If you're looking to hide someone This is the place Maybe they were kidnapped Got any enemies? None worth mentioning Worthless little pricks And angry peasants is all None would dare raise a finger Against my family Any who might have I've been eating dirt long since Anything unusual happen Before they disappeared? They act differently Do anything strange Unusual? No But not long ago Peasants came to complain That a beast had ravaged A woman by the well Devoured another lass Before her Common occurrences in Velen And my women Anna Quiet as a mouse as ever And Tamara Occupied with her Things Nothing unusual This place Must be hard to be the only two women here This place? What do you mean? They wanted for nothing here Pheasant for dinner? Not a problem Blue ribbons from Toussaint? Say the word Had your men in mind Their company Sure your wife and daughter weren't being harassed? My men are a horde of Horsons But they know their place One of them so much as looked at Anna or Tamara crosswise I'd cut him down like a dog I'll need to know a lot more than that Can I see their rooms? What for? I need clues Anything to latch on to I'll not let a stranger pour through their belongings Want me to find them or not? I do Then let me work Fine But I shall go with you The doors are locked The doors are locked The witcher Mi sta sempre piacendo sempre di più questa storia Diventa sempre molto più interessante Ma purtroppo ci dobbiamo fermare qua Dopo che abbiamo finalmente visto Almeno ho potuto Usare Siri Anche vederla Anche se era Al passato E ci vediamo al prossimo episodio